Belli tutti questi oggetti nuovi e reworkati, ma gli AD Carry? Gli AD Carry sono spesso una delle voci più forti e rancorose nei confronti real-game, sullo stato di bilanciamento della classe per intero. Nella community c'è questo riconoscimento e celebrazione del ruolo dell'AD Carry come uno dei più importanti del gioco all'interno di ogni singola partita. Il fatto è che, per quanto si ritenga importante il ruolo degli AD Carry all'interno di una partita, è una classe che, soprattutto del solo Q, è limitata e condannata per qualsiasi giocatore normale. Per colpa di chi? I pro player, naturalmente. Il problema di bilanciare questa classe è dettato dall'immensa capacità meccanica di giocatori di più alto livello che riescono a sfruttare il punto forte degli AD Carry, cioè la gittata, massimizzandone l'efficacia al punto che i campioni e gli oggetti sono bilanciati attorno alla massima espressione di gioco di questa categoria. Qualcuno potrebbe dire, ma come non è così per ogni singolo campione oggetto? Naturalmente è così per ogni sfaccettatore di League of Legends, questo è ciò che lo rende competitivo. Ma gli AD Carry sono un ruolo che richiede lo sfruttamento massimo di meccaniche come positioning e kiting. Questo non significa semplicemente conoscerle e sfruttarle ad un livello sufficiente. Devi saperle sfruttare al 100%, in ogni momento, e rimanere concentrato. Non c'è un momento di pausa. Gli AD Carry sacrificano molte delle chance che hanno altri campioni e dei poteri che hanno altri campioni per poter sfruttare il vantaggio agitata e il massimo danno che possono esprimere considerato il DPS che scaricano. Questo ovviamente rende il ruolo estremamente frustrante per la stragrande maggioranza dei giocatori che si sentono in balia degli eventi dato che non tutti sono Guma, Yushi o Ruler. Prima di cominciare a parlare degli oggetti, vi ricordo ancora una volta, gli oggetti mitici non esistono più. Ciò significa che alcuni oggetti mitici sono stati rimossi e altri invece sono stati resi dei normali oggetti leggendari. Gli AD Carry vedono due oggetti rimossi, la Tempesta Impetuosa o Galeforce e il Pugnale dell'Ira o Rage Knife. Partiamo dal grosso singolo oggetto di cui vi ho parlato anche nel video degli oggetti da Fighter, il Terminus. Costa 3000 gold, ti dà AD e Attack Speed, chiaramente un oggetto minato a campioni che sfruttano Attack Speed e AD che purtroppo per gli AD Carry coincide sia con i Fighter come Jax e Irelia, sia con gli AD Carry che vogliono autoattaccare tanto. Ha due passive, la prima applica danni magici sul colpo, semplice e immediata, sono 30 danni in più per autoattacco. La seconda è un pelino più complessa. Ogni autoattacco tiri un colpo diverso, una volta di luce e una volta di oscurità. Gli attacchi di luce ti danno una carica fino ad un massimo di 5 come potete vedere qui. Ogni carica ti dà armatura e resistenza magica che scala sui livelli del campione, fino ad un massimo di 25. Gli attacchi di oscurità ti danno il 6% della penetrazione armatura e resistenza magica, fino ad un massimo di 5 cariche, che ti danno il 30% di armor e magic pen percentuale per 5 secondi. Dovete pensare a campioni come Varus, come Kogmo, come Kaesa, campioni che hanno danno ibrido applicato in maniera uniforme e che tirano decine e decine e decine di autoattacchi durante un teamfight. L'item è anche valido e va a riempire il buco che si viene a creare, data la perdita della passiva della furia di Guinsoo, visto che non è più un oggetto mitico, e quella passiva era molto importante per certi campioni. Voto 8 su 10, perché avrei preferito che questo oggetto fosse soltanto ranged per premiare gli adcari particolari, che un pochino ne hanno bisogno. E questo è quanto per gli oggetti nuovi, non ci sono altri nuovi item per gli adcari oltre a questo. Andiamo a parlare dei vecchi oggetti mitici. L'Infinity Edge ora costa 100 gold in meno e ti dà quasi le stesse statistiche di prima. I colpi critici ora non faranno più 45% dell'anno in più, ma 40%. Hanno semplicemente rimosso la passiva mitica e alleggerito il costo di 100 gold. Non mi aspettavo niente di meno. Mi stupisce vedere ridotto il danno sul colpo critico? Non penso fosse necessario, sinceramente. Visto che c'è anche chi fa disinformazioni su TikTok e altri social. No, non potete comprare molteplici Infinity Edge. Come potete vedere, ne potete comprare soltanto una. Voto 7,5 su 10 perché è un oggetto che già non soddisfa molto gli adcari. E avevano detto che potrei comprare l'Infinity Edge insieme alle navori, ma a quanto pare non puoi farlo. Come potete vedere, sono mutualmente esclusive per qualche ragione. Le lame rapide navori o navori quick blades ora costano 100 gold in meno e danno 5 di meno rispetto a prima. Le passive rimangono le stesse, con una singola differenza il valore di riduzione del cooldown ogni attacco passa da 15% a 12% del cooldown rimanente. Giusto per bilanciarla attorno al fatto di non essere più un mitico. La cosa che mi stranisce è che io mi aspettavo che ora le navori e le Infinity Edge tu potessi comprarle insieme, cosa che invece a quanto pare non è possibile. E quindi vorrei capire perché togliere così tanto potere... Cioè, togli la passiva mitica. Già gli oggetti erano ben bilanciati visto che erano mutualmente esclusivi. Per quale motivo limitarli l'una dall'altra? Non lo so, mi lascia un po' deluso, avevo la speranza che tu potessi comprarle insieme, ma a quanto pare non è così. Voto 7,5 su 10 perché hai semplicemente tolto la passiva mitica e ridotto un pelino le stats. Non molto creativo. La furia di Guinsoo, o Guinsoo Rageblade, declassata da mitico, perde la passiva che trasformava in critico in danni magicioni T+, permettendo a campioni che hanno critico nel loro build di mantenerlo, permettendo di conseguenza un forte spike su specifici autoattacchi, anche quando tu hai del critico all'interno della tua build. Infatti puoi prendere anche l'infiniti edge e avere dei colpi critici che comunque fanno una bella differenza. Mantieni la seconda passiva che dopo 4 autoattacchi comincia a creare colpi fantasma ogni due colpi, mantenendo quindi intatta l'identità di oggetto che potenzia gli effetti un hit e neanche di poco. Tra tutti gli item ex mitici penso che sia quello che aveva la vita facile, perché sapevano già in che direzione tornare, dato che è passato da leggendario a mitico quest'anno, e quindi riportarla come era una volta l'item è abbastanza immediato. E il punto è che ne esce comunque vincitore, perché adesso che hai tolto la passiva che ti riduce il critico, è molto più forte la possibilità di poter critare con l'infiniti edge. C'è da dire che è un tema ricorrente della season 14, riportare League of Legends agli antichi fasti e alcuni oggetti a quelli che erano gli stati bilanciati di una volta. Voto 8,5 su 10 perché hanno ottenuto la parte più importante dell'oggetto, rimuovendo lo scambio del critico per altri effetti. Andiamo a parlare degli oggetti leggermente modificati o reworkati. Il Kraken Slayer è sempre rimasto un oggetto estremamente valido, nonostante essere stato declassato a oggetto leggendario, e questa season 14 lo aiuta ancora di più. Gli aumentano l'attack speed del 5% e l'effetto passivo è più forte di prima, ma di molto. I valori di danno sono uguali a prima, ma non scala più dipendentemente dal numero di autoattacchi che hai tirato sul bersaglio, ma su quanta vita gli manca? Questo vuol dire che il terzo colpo fa più male su chi è più basso in salute. Questo aiuta tantissimo via di carry a risultare molto più di impatto, dando anche una soddisfazione maggiore quando riesce a scaricare tanto danno su un singolo bersaglio. Davvero, tanta roba. Voto 9,5 su 10 perché già era un oggetto ben bilanciato e sono riusciti a dargli la spintarella per renderlo dannatamente figo e soddisfacente da usare correttamente. L'angelo custode o guardian angel che adesso costa 3200 gold, quindi 100 gold in più, ma va a dare maggiori statistiche con un aumento della D e dell'armatura e un cambio fondamentale della formula. Dato che non esiste più il cronografo, gloria nei cieli, ora l'oggetto viene costruito con una BF sword, un MC spada, e un sigillo d'acciaio, uno stil sigil, un oggetto intermedio che ti dà AD e armatura. La passiva di risurrezione è rimasta praticamente invariata, anche se ora ti rigenera il 100% di mana massima e non più il 30% e basta, una modifica che di rado avrà grande impatto. Voto 8 su 10. Il danzatore fantasma o fandom dancer è rimasto quasi invariato. Le statistiche sono le stesse, tranne per una leggera riduzione di velocità d'attacco e un aumento della velocità di movimento bonus al 10%, da 7% che era. La passiva però ora ti dà una cosa diversa, ti dà velocità d'attacco per ogni singola carica e non più velocità di movimento bonus. Ma tutti un massimo di 5 cariche, quindi 35% di velocità d'attacco bonus quando hai le cariche al massimo. Comprendo che si vuole accentuare la debolezza di carry di non essere così mobili e molti degli oggetti nel gioco hanno mobilità ridotta in totale, sia a movement speed o scatti direttamente. Tuttavia già l'oggetto veniva, non dico ignorato, ma quasi in favore di altri. Con questa modifica ho il timore che questo effetto si accentuerà ancora di più e diventerà relegato a non essere costruito mai. Voto 7 su 10, malpensato, soprattutto per quella che è la situazione attuale. I saluti di Lord Dominic ti danno più 5 AD rispetto a prima, ma vedono la passiva leggermente nerfata. Il danno massimo percentuale aggiuntivo viene ridotto a 15%, danno bonus quando c'è un divario di 2000 HP tra la tua vita massima e quella del tuo avversario, e non più 22%. Sincero, mi stupisce vedere anche questo nerf dopo l'Infinity Edge, dato che c'è la riduzione del danno critico di Infinity Edge, non puoi costruirlo insieme alla Navori. Cioè, la specialità degli AD Carry è quella di fare danno ai tank e ultimamente li scioglievano, ok? Con disarmante facilità, va bene, però non mi aspettavo di un aiuto di questo livello. Voto 7 su 10, perché non c'era motivo di farlo per 5 di AD. L'arco scudo immortale o Immortal Shieldbow non vede grandi cambiamenti. Statisticamente riceve un 2% di Lifesteal in più, in rubavita, e un potenziamento dello scudo di 30 HP fin dal primo livello. Non un aiuto gigantesco, ma comunque lo rende più attraente per tutti i AD Carry, che magari non lo sceglievano più così spesso. Voto 8 su 10. L'archibugia Ripetizione o Rapid Fire Cannon riceve 5% di attack speed in più, il resto è letteralmente variato. Voto 8 su 10, perché potevano fare qualcosa, dai. La Static Sheep o Pugnale di Static vede la rimozione dello scaling HP in maniera definitiva. Il danno base rimane invariato e il numero di bersagli che può colpire sembra essersi limitato a 6 e basta. Nonostante ci sia l'indicatore o meno che sale con i livelli del campione, ho già testato anche direttamente. Uno può salire fino al livello 18 e non fa la benché minima differenza. Rimangono 6 bersagli. Questo riporta la statica ad essere l'oggetto che era prima che venisse eliminato e quindi 6 su 10 come voto, perché che cazzo Riot. Il collezionista o collector vede la sua D aumentare di 5 e la sua letalità scendere di 2, mantenendo però la passiva invariata. Esplode bersagli se sono sotto 5% di vita e ottieni 25 gol per aver raggiunto questo orgasmo dopaminergico nel tuo cervello. Hai guadagnato un terzo di un lume per vedere i grossi numeri bianchi. Bravo. Rimane un oggetto che si può buildare quando si sta snobollando o se si vuole giocare nelle fasi centrale di partita con un vantaggio. Il problema rimane sempre il dopo, quando più bersagli avranno tanta armatura e tu hai optato per questo grosso bastone di statistiche che non scalano così tanto bene. Il cambio della letalità che ignora il valore di armatura indicato fin da subito è un ottimo cambiamento per gli ad carry e dovrebbero aiutarli a rendere più valido l'oggetto. Quindi, comunque, ha più valori di prima. Non aveva bisogno di cambiamenti. E va bene così. Questo oggetto era... Ok. Adesso è più forte. Voto 8,5 su 10 perché se vi rende felici e fa male il giusto alle persone, dai è così. Il dente di Nashor non l'ho discusso negli oggetti da mago perché ormai è così universale come oggetto che trascende quasi tutte le classi. L'oggetto ora ti dà il costo di 3000 gold, 10 AP in meno e la passiva rimane invariata. Già cambiarlo così non permette a Kaes'à di fare le fanta build del bosco senza optare più pesantemente per potere magico. God o strozza di merda! Non le basta quindi avere un singolo oggetto che le fa evolvere a W a caso. Voto 9 su 10 perché fanculo Kaes'à. Lo Storm Razor vede un aumento della DD5 e un aumento del costo di 100 gold. La passiva rimane invariata. Voto 7 su 10. L'Uragana di Runan, la Mercurial Scimitar o Scimitarra di Mercurio, l'Essence River o Predatore Essenza, il Mortal Reminder o Memento Mori e la Bloodthirster o Brahma Sangue rimangono invariate. E questo è quanto per gli AD Carry. Non ricevono tanti cambiamenti perché hanno ricevuto molte attenzioni durante il 2023 e quindi non volevano strabordare con cambiamenti anche per gli AD Carry dato che sono una classe che è stata di fondamentale importanza per il bilanciamento del gioco e aiutarli più del dovuto romperebbe il delicato equilibrio instaurato se non fosse che poi hanno ridotto il danno dell'Infinity Edge e i saluti Lord Dominic e quindi sono molto confuso. Ho la sensazione che si tirò molte più proteste da questa classe di giocatori proprio perché a primo impatto sembra che non abbiano fatto niente per gli AD Carry nonostante molti degli oggetti iniziati da support sono stati modificati in modo da facilitare la vita degli AD Carry e che non è un potere facilmente apprezzabile finché non lo vedi in campo e di conseguenza sembrano la categoria lasciata e abbandonata al suo triste destino. Sono curioso di vedere come i giocatori si abitueranno alle nuove fasi di corsia sulla nuova appa nuova che andremo ad analizzare in maniera più approfondita nei prossimi giorni. E signore e signori, questo è quanto per questo video e noi ci vediamo al prossimo!